Rifiuti in mare, la denuncia del WWF è davvero molto forte, queste immagini parlano quasi da sole, Caserta? Sì, raccontano un po' quella che è la nostra vita, perché qui ritroviamo effettivamente tutto quello che in qualche modo pensiamo di buttare, che però arrivando al mare poi ci ritorna sulla spiaggia. Il 95% del materiale che viene trovato in mare è plastica, è formato da plastica, quindi questo prodotto che era nato per durare nel tempo e che noi invece usiamo per dei prodotti use e getta e quindi una volta che lo gettiamo poi se non viene recuperato correttamente noi ce lo ritroviamo praticamente per decine e decine di anni in natura. Si è anche presente che il mar Mediterraneo rappresenta l'1% delle acque marine del mondo e ha il 7% delle plastiche. Noi siamo particolarmente colpevoli rispetto a altre realtà, altre comunità perché gettiamo veramente tanta plastica. Quello che vedete qui stamattina è semplicemente una piccola selezione, avremmo potuto portare molto molto di più perché sul mare si trova veramente di tutto e bisogna cambiare mentalità. Alcune delle cose che troviamo con maggiore abbondanza sono le reti abbandonate, quelle che si usano per esempio per l'allevamento dei mitili, delle cozze, poi vengono buttate al mare, troviamo tantissimi pezzi di ombreggi, di quelle cosiddette palme che una volta realizzate con mezzi vegetali non creavano problemi. Oggi sono tutte in plastica e bisogna tornare al passato perché quelle microplastiche vengono buttate, piccole plastiche, finiscono sulla sabbia, poi finiscono in mare, poi finiscono in bocca ai pesci e alla fine nel nostro stomaco. È assolutamente necessario invertire questa tendenza, noi come WWF abbiamo lanciato proprio in questi giorni una petizione che può essere firmata sul sito www.it per chiedere al nuovo governo e al Parlamento innanzitutto di fare delle leggi in Italia che vadano nella riduzione della produzione del consumo di plastica per i prodotti usi e getti e poi di spingere affinché venga effettivamente approvata in tempi brevi la nuova direttiva presentata a maggio che vieterà in tutti gli Stati membri 10 prodotti di questo tipo, 10 prodotti quindi monouso in plastica che purtroppo poi recono tutti questi problemi.